Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Miki TV. Come potete vedere questi non sono i cuccioli di Sam e Eda, ma sono i cuccioli Dimitra e Max. Sono tutti tricolore, sono molto belli, hanno tutti aperto gli occhi, non mangiano ancora mangime ma prendono solo il latte, stanno ancora nella cassa aperto e ancora non la sono riusciti mai a scavalcare. Sono sei e ora si stanno riposando. Ciao, ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.